Buonasera e benvenuti a una nuova conferenza del ciclo di Villagreppi per l'arte e per la cultura. La cultura non si ferma e anche questo nostro ultimo incontro dedicato a un tema molto interessante, cioè le donne pittrici del 5-600, lo faremo in streaming, lo faremo a distanza, sperando che insomma la primavera porti anche la possibilità di rivederci di persona. Intanto siamo arrivati a quest'ultimo incontro di questo trittico dedicato al mondo del femminile nelle arti, a coronare un po' questa serie di iniziative che ci sono state nel 2020, un po' costrette, date appunto la situazione contingente, dedicate alle donne nel mondo dell'arte. Oggi noi ci concentreremo sul tema di una mostra che dovrà essere a Palazzo Reale, adesso non so ancora bene le sorti di questa esposizione vista la situazione attuale, ma prima o poi verrà ospitata da Palazzo Reale, una mostra dedicata alle donne del barocco. Chiaramente quando parliamo di donne del barocco il pensiero corre immediatamente ad Artemisia Gentileschi, ma non esiste soltanto lei. Noi oggi vedremo insieme quante figure femminili hanno in realtà caratterizzato la pittura italiana e non solo italiana e scopriremo delle personalità decisamente straordinarie e assolutamente da rivalutare, spesso dimenticate non dai loro contemporanei che anzi le consideravano delle grandissime artiste degne di note rilevanza, ma dalla storia, dal corso della storia dell'arte successiva. Quindi faremo un lavoro di riscoperta e di ripasso di alcuni nomi già molto noti, altri che invece immagino vi colpiranno proprio perché non così scontati e non così conosciuti dal grande pubblico. Innanzitutto questa stagione, le donne che hanno lavorato in questa stagione vengono definite in maniera molto significativa le virtuose. Si definisce l'epoca delle virtuose questo momento storico del tardo rinascimento, inizio dell'epoca barocca, in cui le donne hanno frequentato la pittura ben stando attente anche alla propria rigore morale, alla propria apparenza dal punto di vista della moralità, perché ahimè, come possiamo immaginarci, è immediata l'accusa che viene rivolta a una donna che si dedica ad attività solitamente invece maschili, più diffuse nel mondo maschile, quella di essere appunto una donna facile, quindi non virtuosa, quindi dedita ad attività immorali o illecite. Ecco, purtroppo questa accusa, questo pregiudizio è frequentissimo nel mondo delle donne artiste. Oggi noi parleremo di tanti pregiudizi, di tante questioni con cui le donne hanno dovuto combattere per farsi rispettare come artiste, anche quando grandi artiste, come nei casi che vi citerò stasera, oggi insieme. Comincerei condividendo con voi, come sempre, il file di immagini che ho preparato in modo da potervi mostrare le opere più da vicino e con più attenzione, vediamo, di mettere il file tutto schermo così che anche voi possiate vedere meglio le immagini. Ecco qui, la prima opera che state vedendo sullo schermo è un lavoro molto interessante di un artista, Plautilla Nelli, un artista rinascimentale che ci introduce subito in una questione fondamentale. Plautilla Nelli era una suora, era una religiosa e paradossalmente nel mondo antico le donne che volevano diventare artiste avevano molta più libertà di espressione e molta più anche credibilità all'interno di un convento. Questo proprio perché se badesse, se monache, ben difficilmente potevano essere tacciate di immoralità o di condutta illecita. Dunque, all'interno di un convento le donne sono libere non solo di dipingere, ma come nel caso della monaca Ende, che emignò un bellissimo codice del Beato di Liebana, un codice che oggi si trova a Gerona, Ende addirittura aveva un aiutante uomo che le preparava i pigmenti e i colori. Qualcosa che per una donna non chiusa in un convento sarebbe stato impensabile, assolutamente impercorribile come ipotesi. Quindi le monache in particolare si dedicarono alla pittura sia mignata nel Medioevo, sia dipinta, come in questo caso di Plautilla Nelli nel IV e Cinquecento, con esiti decisamente interessanti, talvolta rivestendo anche dei ruoli di un certo potere. Questa ultima cena di Suor Plautilla è uno dei capolavori di Plautilla Nelli che si mosse in Toscana con grande successo dipingendo anche pale d'altare per importanti luoghi religiosi. Quindi il problema numero uno di una donna che volesse diventare artista nell'epoca di cui stiamo parlando era innanzitutto quella di riuscire ad esserlo senza incappare nel pregiudizio o, peggio, nelle accuse della gente comune. Attenzione, non solo degli uomini, della gente comune, perché molto spesso a fare, diciamo, ostracismo, a fare ostacolare il percorso di queste figure femminili sono le altre donne, non gli uomini. È la società che rifiuta di accettare la possibilità che una donna possa essere artista e artista di grande livello. Ecco dunque che personaggi come Plautilla Nelli ci introducono in un contesto in cui la donna protetta dall'abito talare, della veste religiosa, è più libera di una donna che invece vive normalmente nella società laica, come ad esempio Properzia De Rossi, che era un artista che alla metà del Cinquecento, nella prima metà del Cinquecento, aveva lavorato come scultrice a Bologna. Bisogna dire innanzitutto che Bologna è una città molto attiva anche nella cultura femminile. Ci sono professoresse dell'università, ci sono scultrici, ci sono personalità importanti in generale della cultura donne, quindi Bologna è stata una città che sul mondo femminile ha detto molto. Ciò nonostante Properzia De Rossi è proprio in qualche modo la quintessenza delle difficoltà che una donna può incontrare nell'arte. Properzia era un'ottima scultrice, questa è la sua Giuseppe, la moglie di Putifarre, è una formella a basso rilievo che si trova in San Petronio, quindi non nell'ultima chiesa della città, anzi in una chiesa importantissima per Bologna. Properzia aveva una sua certa notorietà come scultrice, ma fu osteggiata, ostacolata anche dai suoi colleghi. E la cosa clamorosa è che Properzia divenne poi molto famosa anche per romanzi, pièce deatrali che raccontano la sua vita e raccontano questa sua storia d'amore illecita con un soldato più giovane di lei e raccontano fatti sentimentali che veramente poco interessano invece il lavoro da scultrice di questa grande artista, che talmente tanto vittima dell'invidia finirà col dovere in parte rinunciare alla sua attività di scultrice che appunto prevedeva anche una collaborazione con il Duomo, quindi con le chiese più importanti della della città e poi Properzia diventerà famosissima per questo genere di oggetti. Questo è un nocciolino di un frutto scolpito con centinaia di testoline microscopiche incise sulla superficie del nocciolo, quindi in realtà lei diventa una scultrice da miniatura, da oggetto di pregio raffinatissimo, di straordinaria bellezza, visto con la lente di ingrandimento vi accorgereste della varietà di questi visi che lei riesce a incidere in una superficie così minuscola per farne appunto dei gioielli come quello che state vedendo, ma capite che è una scultrice che aveva la possibilità di scolpire per San Petronio, per le grandi chiese cittadine, certo la soddisfazione di fare un nocciolino scolpito è infinitamente inferiore rispetto al prestigio di una sua opera ufficiale. Del resto se una donna aveva difficoltà in pittura immaginatevi in scultura, c'è un brano molto bello di Vasari che fa proprio riferimento a Properzia dove Vasari dice pare impossibile che una donna possa scolpire quelle mani che si riempiono di polvere di pietre, di polvere di marmo, ecco quindi che la brutalità della scultura scontra con quello che dovrebbe essere invece la delicatezza della femminilità. Ed è buffa questa cosa perché anche nel Settecento poi un artista come Camille Claudel, mentre Rodin si faceva scolpire il marmo dai suoi scalpellini, la Claudel scolpiva autonomamente le proprie opere. Quindi in realtà è un luogo comune, come ahimè ce ne sono tantissimi nel mondo delle artiste donne contro cui queste figure femminili si trovano immancabilmente a doversi scontrare. Quindi cosa bisognava fare per diventare artista, per diventare pittrice, per avere la possibilità di essere una figura di rilievo nel panorama della pittura, diciamo, del proprio tempo. Un ottimo esempio da questo punto di vista ce l'offre la Vigna Fontana. Nata nel 1552 a Bologna, lei morirà a Roma nel 1614, la Vigna è un caso abbastanza particolare. Lei era figlia di un grande pittore, Prospero Fontana, ma lei forse ancor più talentuosa del padre, discendendo da una famiglia molto colta, riesce anche a mettere a frutto il proprio talento. E la Vigna è una delle pochissime artiste che riescono ad affermarsi dal punto di vista professionale, dipingendo anche opere religiose. E quando una donna arriva a dipingere pare d'altare, credetemi, siamo di fronte a un personaggio veramente molto importante, perché ben difficilmente la Chiesa ha concesso alle donne così tanto spazio e così tanta credibilità. Lei addirittura fu fatta accademica di San Luca, cosa ancor più unica che rara nel panorama del mondo dell'arte al femminile. Del resto suo padre, Prospero, non aveva mai ostacolato la sua vocazione alla pittura. E anche suo marito, lo Zappi, non fu uno di quei mariti, cosa che poi invece troviamo molto purtroppo nelle storie dell'arte al femminile, che si mise contro al talento della moglie o che le impedì per motivi di perbenismo, di immagine della famiglia, di dipingere. Lo Zappi fece quasi da manager alla vigna fontana. E quello che ne esce da questa condizione è la situazione di una donna che si divide brillantemente fra famiglia e lavoro. La vigna ebbe undici figli, ne sopravvissero solo tre, un po' come era tipico al tempo, perché c'era una mortalità giovanile altissima, ma fu quindi una donna che seppe essere madre e seppe essere anche una straordinaria professionista. Nel 1611, quindi prima della sua morte, fu cognata una medaglia in suo onore con il proprio volto. E sappiamo che l'ambasciatore del re di Persia compose un madrigale in suo onore. Quindi una donna non solo talentuosa, ma anche riconosciuta, apprezzata, guardata con attenzione dal mondo che la circondava. Quello che vedete in questo tondo è un suo autoritratto. E vedete già come si autoritrae la vigna fontana. Questo ci servirà per capire un po' come si autoritraggono le donne, perché c'è una consuetudine comune in queste figure femminili, che adesso poi andremo a a vederci con attenzione, perché è un dato direi molto molto interessante. E la vigna qua si autoritrae non al cavalletto, non con gli strumenti della sua pittura, ma con la penna, il quaderno, sta scrivendo su un taccuino o forse disegnando, perché una delle consuetudini fondamentali per una donna di cultura era quella di dare l'impressione di avere una cultura completa, a tutto tondo. Dunque, certo, una pittrice doveva essere ottima pittrice, ma questo la vigna lo dimostra già dipingendo il quadro. Quindi l'opera che noi abbiamo davanti è già la testimonianza della bravura di la vigna fontana come pittrice. Quindi era meglio, più importante, ricordare la propria invece dimestichezza anche con altre arti, ad esempio il disegno, la scrittura o la musica. Poetare, disegnare, comporre brani musicali o suonare strumenti musicali erano tutti elementi che una nobile donna o una donna della buona società doveva dimostrare di saper gestire. Dunque, per essere una virtuosa, per l'appunto, occorreva necessariamente dominare più tipi di arte. Il problema qual era? Che la maggior parte di nobile donne del tempo o di ragazze dell'alta società del tempo sapeva dipingere, poetare e suonare, ma probabilmente non faceva nessuna delle tre cose veramente bene. Era un'infarinatura, era parte della cultura di una nobile donna, di una figura femminile che potesse frequentare un certo mondo. Chi è emerso nella pittura ha avuto un'altra difficoltà, è la pittura. Chi è emerso, punto, perché sfido a ricordarvi il nome di una musicista o di una letterata, ecco, è difficilissimo, ci vuole dell'impegno. Di fronte invece alla moltitudine di nomi maschili che vi vengono in mente in qualsiasi momento io ve lo possa chiedere. Quindi in realtà c'è un problema, anzi forse nella musica è ancora peggio, se posso dire, rispetto alla pittura. Quindi in realtà la difficoltà di una donna qual era? La difficoltà di una donna era il passaggio tra l'amateur, l'amatrice, la figura che per passione, per diletto si dedica a queste discipline e invece la pittrice di professione. Quindi la donna che sceglie la pittura come suo status professionale. Lavinia arrivò ad essere pittrice riconosciuta. Lei molto colta, molto abile nella sua gestione, diciamo, delle sue figure, fu ambitissima come ritrattista, ma fu ambitissima anche come pittrice di altre tematiche. Tra le tematiche più apprezzate, non solo di Lavinia, ma delle donne artiste in generale, c'è l'autoritratto. E noi possiamo anche capire per quale meccanismo. Perché quando un committente comprava un autoritratto a una figura femminile, una pittrice donna, faceva in qualche modo una doppia azione. Si comprava l'immagine della pittrice, quindi questo fascino un po' inquieto di una donna che dipinge e nello stesso tempo l'opera della donna. Quindi c'era una sorta di gioco un po' sotteso, non detto, fra il committente e la pittrice, che usava l'autoritratto quasi come un biglietto da visita. Vedete qua di nuovo Lavinia, sta suonando la spinetta, perché la musica, saper dominare anche le altre arti e discipline, era un elemento indispensabile per una virtuosa. Quindi il gioco è dare di sé un'immagine di un certo tipo. Nel caso di Lavinia, ma vedremo anche nel caso di Sofonis Banguissola e di moltissime altre pittrici, della Longhi, della Robusti, hanno tutte questa visione di sé composta, ordinata e colta, che guarda anche altre attività culturali come la musica o la scrittura. In questo caso Lavinia addirittura ha alle spalle la sua ancella che le porta allo spartito che lei suonerà. Ma Lavinia Fontana era molto nota e molto richiesta nella Bologna del suo tempo anche per i ritratti, soprattutto i ritratti di nobile donne, che vedete lei gestiva in maniera brillante, accostando loro sempre un elemento di piacevolezza, un cagnolino, un mazzo di fiori, una bimba piccolina, insomma una qualcosa di gradevole, di grazioso. Nel caso dei cagnolini ne abbiamo una serie di opere di questo genere. Vedete sono sempre nobile donne molto eleganti, ma non così di un'eleganza esibita, molto composte, molto graziosi, ma serie, che giocano con questo piccolo elemento di piacevolezza. Questo tipo di ritratti era richiestissimo e Lavinia Fontana fu veramente un artista che arrivò al Papa, che arrivò alle committenze più alte e che in qualche modo si vide riconosciuta il proprio talento, la propria capacità pittorica anche in vita. Addirittura Lavinia osò dipingere un tema che alle donne era totalmente precluso, il nudo. Perché qui arriviamo a un punto fondamentale nella storia delle donne pittrici dell'antichità. Io trovo, questo ho già avuto modo un po' di dirvelo in altre occasioni, che parlare di arte al femminile oggi sia del tutto fuori luogo, perché l'arte, come diceva Sonia Delunay, non deve essere né maschile né femminile. Quindi io sono abbastanza contraria alle mostre di sole donne, se non svolte con motivazioni molto forti. Perché fare mostre di sole donne significa autoghettizzarsi, perché mai? È come fare una mostra di soli uomini, qualche senso ha. L'arte è arte e noi dovremmo arrivare alla vera parità, che è quella che non chiede più il genere di appartenenza. Un'opera d'arte è un'opera d'arte che l'abbia fatto un uomo o una donna. È molto interessante invece il recupero dell'arte al femminile dal punto di vista storico, perché fino a tempi recentissimi, ma veramente recentissimi, le donne hanno subito pregiudizi e ogni tipo di ostacolo che spesso e volentieri ha inficciato la loro carriera. Ci sono casi anche molto recenti, me ne viene in mente uno subito a me molto caro, di cui ho appena curato una mostra l'anno scorso ad Arcole, Carla Maria Maggi, questa pittrice straordinaria, anni 30 a Milano, figlia di una famiglia agiatissima della città che è costretta a smettere di dipingere perché quando si sposa è disdicevole che una donna del suo livello faccia la pittrice. Ecco, questa è la pittrice di nudi peraltro. Questo pregiudizio fino a tempi molto recenti, direi fino almeno agli anni 50, è perdurato in maniera molto violenta, è stata poi la generazione degli anni 60, 70, scardinare anche con le lotte femministe. Questo concetto, se oggi noi chiediamo ad artisti come ad esempio Grazia Varisco, le grandi personalità che sono nate proprio artisticamente in quegli anni, loro preferiscono non essere definite donne artiste, ma artiste, semplicemente artisti, cioè non c'è più bisogno di questa differenza di genere o non dovrebbe esserci più bisogno di questa differenza di genere. Ecco, la Vigna Fontana è stata una di quelle figure che hanno spostato di parecchio la lancetta in avanti per le donne. Quando lei dipinge un nudo, sfata di fatto una problematica che le donne artiste hanno dovuto avere ben chiara per un sacco di tempo. La donna non può vedere dei nudi. Esiste un quadro della Grand Pierre de Versy, artista francese di inizio 800-fine 700, dove c'è la scuola che suo marito aveva aperto per le donne e ci sono tutte queste signore di fine 700 vestite elegantissime, il quadro è proprio del 1800, proprio inizio secolo, e ci sono tutti i busti greci come modelli e c'è un torso maschile che è girato di spalle, perché una donna non può vedere la nudità maschile neanche se fatta di gesso. Quindi partendo da questi preconcetti, addirittura le donne nel 700 non potevano andare all'Uvra perché c'erano dei nudi nei quadri. Quindi immaginatevi quale potesse essere il percorso per una donna che non poteva copiare un modello dal vero e vedremo che artiste come Giulia Lama, che copiavano nudi dal vero, facevano scandalo ancora nel 700. E qui la vigna fontana dipinge un nudo femminile, lo fa con una certa incertezza bisogna dire, anche perché non può vedere se non se stessa la vigna. Il problema che avrà Artemisia per cui si dice che la guissola si guardasse negli specchi, perché la sua volontà di studiare l'anatomia umana era tale che voleva vedere una schiena dal vero e quindi guardava la propria con un gioco di specchi, perché se noi non possiamo vedere nessun tipo di figura nuda è un po' difficile anche capire come è fatta una persona da dietro, insomma, ecco, chiaramente. Questa minerva che si veste è uno dei primi e più eclatanti nudi dipinti da una donna nella storia dell'arte del 500. Ma se personaggi come la vigna fontana possono onorare il proprio talento con grande diciamo fortuna, perché hanno un padre e un marito che non ostacolano il loro cammino, ma anzi lo sostengono, lo sorreggono e lo esaltano, ci sono anche artiste invece più sfortunate, nonostante portino cognomi molto impegnativi e importanti. Questa signorina davanti alla spinetta con quest'area un po' da bimba si chiama Marietta e intorno a lei c'è un vero e proprio mito, sono stati scritti anche dei romanzi, lei si chiama Marietta Robusti ed è la figlia del Tintoretto. Sapete che Tintoretto aveva dei figli e tutti l'hanno molto aiutato a dipingere alcune opere. Marietta è stata molto più presente di quanto non si creda nelle opere di suo padre e mentre si parla spesso di aiuto dei figli si cita sempre molto poco l'aiuto di Marietta, che invece ci fu e come e in alcuni quadri anche in maniera abbastanza evidente. Lei era nata nel 1554 e morirà nel 90, giovanissima di parto. La sua figura è una figura emblematica per capire una serie di questioni legate all'essere donna e pittrice anche quando si apparteneva a una famiglia così importante per la pittura del tempo, per l'arte del tempo. Il Tintoretto aveva una passione smodata per sua figlia e questo giocò a sfavore di Marietta perché quando il re di Spagna la invitò ad andare a corte, lei rifiutò perché Tintoretto non glielo concesse, voleva tenerla con sé, voleva tenerla a Venezia. La diede in sposa a un gioielliere veneziano e la tenne nella sua bottega, nel suo atelier, finché appunto Marietta non morì giovanissima. C'è un quadro straordinario alla Galleria d'Arte Moderna di Milano, un quadro di Eleuterio Pagliano in cui il pittore rappresenta Tintoretto che piange disperato sul corpo morto di Marietta e c'è Marietta a letto con questi lunghi capelli biondi, sembra bella addormentata nel bosco, l'immaginario di una principessa. Ecco, questa lettura romantica che il pagliano dà della vicenda rinascimentale è emblematica in quanto Marietta Robusti, la Tintoretta, è diventata un mito ancora prima di essere riconosciuta come pittrice e ancora oggi ci sarebbe da dire parecchio su alcuni quadri di Tintoretto e ci sarebbe da dire parecchio anche su alcuni quadri che sono ancora anonimi e che potrebbero appartenere a pittrici come lei e non soltanto come lei, diciamo, che ancora non ha un corpus esatto di opere al suo attivo e come molte donne pittrici di quest'epoca attende decisamente una riscoperta. Eccolo qua, il quadro di Eleuterio Pagliano, vedete, una principessa delle fiabe, una figura tragica che nell'immaginazione classica di un pittore del 1800 rivive il dramma di Tintoretto per la morte della figlia Marietta. Ci sono dei modi per potersi salvare dai luoghi comuni, dai pregiudizi, dalle accuse a cui sistematicamente una donna pittrice andava incontro. Un modo abbastanza classico era quello di autoritrarsi, come già vi dicevo, per la vigna fontana nel modo più morigerato e virtuoso possibile. Uno di questi metodi poteva essere quello adottato più volte da Barbara Lunghi, anche lei pittrice di aria emiliana, e lei si ritraeva spesso nelle vesti delle sante, in questo caso è il suo autoritratto nelle vesti di Santa Caterina. Ora, capite che la concentrazione massima per una donna pittrice era soprattutto quella di uscire integra, moralmente, socialmente, dalla sua condizione di pittrice e di lottare per un'affermazione della sua personalità e della sua pittura, che era già un'affermazione complicatissima per il fatto che una donna non poteva fare il cursus di studi che faceva un uomo a quell'epoca, non poteva ad esempio andare a bottega. Nessuna figura femminile è potuta andare a studiare, da un pittore, andare da un maestro, andare a bottega come facevano tutti, né tantomeno poi negli anni successivi iscriversi in Accademia. Tenete presente che la prima donna ad entrare in un'Accademia è stata Elisabeth Viget-Lebrun, insieme ad Adelaide Labilia, che sono due francesi che riescono veramente a sfatare questa predizione, questo mito e finalmente aprire le porte dell'Accademia anche al mondo femminile. Da notarsi però che l'Académie de France per gli uomini era aperta senza una retta di iscrizione, c'erano numerosissime borse di studio che permettevano a chiunque avesse talento di potersi iscrivere anche senza essere ricco di famiglia e non c'era un numero limite di iscrizioni. Per le donne c'erano due posti all'anno e avevano una retta di iscrizione, quindi già si faceva una scrematura sociale pesantissima e poi chiaramente in termini numerici. Tanto è vero che poi nel 1700 aprirono molte scuole, molte scuole per sole donne private, gestite magari anche da pittori uomini che insegnavano magari anche in Accademia e poi aprivano la scuola privata per le donne perché la richiesta di figure femminili che volevano iscriversi a una scuola di pittura stava diventando molto alta. Chiaramente però erano sempre figure che appartenevano a una certa classe sociale, ciò vuol dire che, per fare un riferimento al mondo maschile, molti pittori che vengono da situazioni umili e che hanno potuto frequentare l'Accademia grazie a borse di studio, perché vincevano il Prix de Rome o cose di questo tipo, nel mondo dell'arte al femminile non sarebbero mai esistite perché non ci sarebbe stata per loro la possibilità di aprire le porte dell'Accademia e avere uno spazio per loro all'interno di questa importante scuola. Dunque era difficile diventare pittrice, era più facile se si aveva un parente pittore, come nel caso della Fontana, oppure naturalmente era necessario avere, o anche nel caso di Barbara Lunghi, oppure era necessario avere un sostegno familiare molto forte. Sicuramente ha questo sostegno familiare Sofonisba Anguissola, che è probabilmente insieme ad Artemisia la pittrice più famosa del 5600 italiano. Sofonisba era nata nel 1532 e morirà nel 25, quindi una lunghissima vita che vedremo anche un po' romanzesca, costellata di episodi che la rendono un po' un'eroina letteraria. Sofonisba ebbe una grande, grandissima fortuna. Nacque da un uomo, Amilcare Anguissola, un uomo dell'alta società di Cremona, un uomo agiato, ma che avendo avuto sette figli, tra cui un solo maschio, ovviamente deve pensare a come dare una dote a tutte le figlie femmine, garantendo loro un futuro. Agiato sì, ma non così tanto ricco. E dunque Amilcare pensa di dare alle figlie la dote più, diciamo, intangibile ma preziosa, la cultura. E istruisce tutte le sue figlie all'arte, alla poesia. E fa seguire loro corsi anche da importanti maestri del tempo. La sua primogenita, Sofonisba, andrà a scuola da Bernardino Campi, che la istruirà, diciamo, dal punto di vista della pittura, con, diciamo, sotto legida dell'esempio Lombardo della pittura cinquecentesca. Poi studierà con Bernardino Gatti, meglio noto come il suo Iaro, e si ritaglierà una personalità tale che arriverà a ricevere l'ammirazione, diciamo, e note di, insomma, di complimenti e di ammirazione da parte di Michelangelo e del Vasari, che parlarono di lei e l'ammirarono profondamente. E l'eco di questa sua incredibile notorietà nel 1559 arriva a Filippo II di Spagna, che la chiama a corte come ancella di Isabella di Valois la regina. Notate una cosa, tutti i pittori, sapete che comunque era di Spagna, Filippo II fu un grandissimo mecenate d'arte, e lui raccolse nella sua corte nomi di straordinaria importanza. Ecco, Sofonisba andò a corte come dama di compagnia, quindi se la cercate nei registri dei pittori di corte non la trovate, ma come dama di compagnia dipinse in realtà ritratti di tutta la famiglia reale e l'importanza da lei raggiunta la percepiamo per un aneddoto legato alla sua figura, che è un aneddoto che mi sembra molto significativo. Quando Isabella di Valois muore, teoricamente Sofonisba, la morte della regina, avrebbe dovuto tornare a casa, perché una volta morta la regina, le ancelle, le dame di compagnia venivano rimandate alle proprie case d'appartenenza, e invece per Sofonisba si fa una grande eccezione e si tiene a corte. Quindi lei resta in Spagna nonostante la sua regina non ci sia più. La pittura di Sofonisba è una pittura di straordinaria importanza per la scuola della pittura lombarda. Qui cominciamo a entrare nel racconto di una pittrice che va al di là del suo essere donna. Sofonisba ha una capacità, un talento pittorico che cerca i propri confronti molto chiaramente in un ambito che sta fra Leonardo e il naturalismo invece tipico lombardo che conduce a Caravaggio. Sofonisba è lì in mezzo. Guardate queste sorelline che giocano a scacchi, le sue sorelle con l'ancella che giocano a scacchi, con la dama di ricordi, compagnia che giocano a scacchi. Guardate il paesaggio sullo sfondo, quanto è leonardesco, quanto è vicino a certe intuizioni, intenzioni della pittura di Leonardo e dei leonardesi. Perché Sofonisba appartiene proprio a quel mondo del vero intimo della pittura lombarda, un po' datole dal Bernardino Campi certamente, è un po' suo, istintivo. Questo è un suo lavoro, copia dal Campi. Perché a volte le donne devono fare così, per imparare a dipingere, non potendo vedere i modelli dal vero, chiaramente devono copiarli da altri. E quindi fanno affidamento su quadri di altri pittori, li copiano e ci studiano sopra. Notate che lei studia proprio questo tipo di pittura, molto intimo, naturalistico, immediato, che è tipico della Lombardia del tempo. E la sua lezione è veramente un punto di incontro tra mondi, è un anello di passaggio che porta da lì a breve proprio verso il Caravaggio, no? Verso quel tipo di naturalismo lombardo tradotto a Roma nelle mani di un genio come Caravaggio, esce appunto la pittura del vero alla maniera del Merisi. In questo caso è sempre suo padre, con il suo fratellino, a Sruvale, con la sorellina, il cane di famiglia. Vedete la compostezza, la bellezza dei personaggi e sullo sfondo di nuovo questi paesaggi. Per capire quanto Sofonisba abbia anche studiato, abbia anche studiato l'emotività e l'espressione, la fisionomica, definiamola così, leonardesca, basterebbe questo disegno con questo bimbo che è stato morso da un animaletto, no? Da un ramaro che è vicinissimo alla figura dipinta da Caravaggio, no? Lui sottrae il ditino perché è stato pizzicato e ricorda quello studio poi dell'espressione del volto che viene da Leonardo e sarà poi così evoluto e rivisto dal Merisi. Con questi disegni bellissimi di Sofonisba ci danno anche un po' il livello altissimo della sua pittura. Non è un caso che lei abbia avuto così tanto successo e sia stata così tanto ammirata da tutti i suoi contemporanei. Pensate che quando nel 1624 lei vive a Palermo già molto, molto anziana, la va a trovare Anthony Van Dyck, il più grande retrattista del secolo e Van Dyck va a trovarla con l'intento specifico di intervistarla, di farsi raccontare la sua vita ma anche il modo che lei aveva di dipingere retratti. Van Dyck va fino a Palermo a cercare, diciamo, a incontrare Sofonisba, la cerca, la trova e le parla quando appunto lei già più che novantenne vi fa capire quanto fosse anche nota, no? Sofonisba, se un artista come Van Dyck si prende la briga di andarla a trovare e ascoltare le sue parole. Ecco, si dice che la vera preoccupazione di Sofonisba fosse quella che nel retrarla Van Dyck le nescondesse le rughe, considerando che lei aveva 92 anni, insomma, mi sembra abbastanza incredibile, no? Questo suo atteggiamento, lei morirà l'anno dopo e questa è una pagina del tacquino di Anthony Van Dyck con un ritratto di Sofonisba, che nella sua vita invece si era sempre ritratta in questo modo, con questo visino incantevole, tirato, rotondino, sempre con le guance lisce, come se non invecchiasse mai. Questo era il modo che aveva Sofonisba di ritrarsi da virtuosa e vedete anche lei come Marietta, come la vigna, con la spinetta, con lo strumento, con un oggetto che non riguardi la sua pittura, ma qualcosa d'altro, qualcosa di diverso. La vita di Sofonisba tra l'altro fu roccambolesca perché lei si sposò con Fabrizio Moncada, un uomo che neanche conosceva, matrimonio di convenienza, lui non poteva andare in Spagna, lei era in Spagna e quindi si sposa per procura, cioè sposa un'altra persona in nome di… e poi raggiunge il marito che però muore abbastanza presto. E quindi lei resta vedova e si imbarca per tornare verso casa e conosce un capitano della galea su cui si era imbarcato, Razio Nomellini e si innamora di lui e lo sposa in seconde nozze senza il consenso della famiglia, creando uno scandalo non da poco per l'epoca. Quindi di testa sua il comandante del vascello arriva con lui poi a Genova, vive a Palermo, torna appunto, gira tutta l'Italia, torna a Palermo dove già aveva vissuto con il primo marito e muore appunto a 93 anni, notissima, celebratissima e considerata una dei pittori più importanti del panorama nord italiano e non solo del seicento. Tutta l'Italia forse potrebbe essere un po' più famosa di quello che già non è. Del resto anche le artiste donne più famose spesso non lo sono tanto per la loro pittura quanto piuttosto per la loro storia. Col fatto che un uomo rimanga intrappolato nella sua biografia è possibile. Pensate a Van Gogh o a Caravaggio, notissimi per la loro vicenda umana, ancor più che per la loro pittura. Ma la loro vicenda umana non fa dimenticare la loro pittura, anzi. E invece spesso nelle donne succede questo. La vicenda umana supera la pittura e alla fine si parla di quello e non si parla dei loro dipinti. È successo ad esempio a questa pittrice straordinaria, credo la più famosa artista donna dell'epoca barocca, Artemisia Gentileschi. Lei, notissima, su di lei sono stati fatti film, romanzi, pièce teatrali, un personaggio che si presta moltissimo a un'analisi di questo tipo. Ma Artemisia è stata anche e innanzitutto una straordinaria pittrice. Lei era nata nel 1593. Era nata a Roma, figlia di Orazio Gentileschi. Pittore, pittore classico che ormai con una sua notorietà e una sua clientela, una sua committenza importante, aveva conosciuto Caravaggio e aveva deciso di seguirlo in questa sua rivoluzione pittorica. Passato ad essere un caravaggista, di fatto Gentileschi perse molte dei suoi committenti che non capirono la svolta. Con Caravaggio, Orazio Gentileschi fece anche qualche giorno in prigione, insomma, perché andava col Nerisi a cacciarsi nei guai sistematicamente. Artemisia, orfana di madre, vive in questa società violenta, perché la società della Roma del Seicento è una società violenta, una società delle osterie, una società dei vicoli, una società che porterà Caravaggio ad essere accusato di omicidio e quindi ad essere condannato a morte. E lei Caravaggio probabilmente non se lo ricorda, nata nel 93, Caravaggio morirà nel 10 ma lascerà Roma in precedenza, quindi in realtà lei Caravaggio probabilmente lo ha, lo immagina come un uomo di cui ha un'idea soprattutto dal punto di vista della pittura, quello sì, perché Artemisia cresce nelle chiese dove trionfano i quadri di Caravaggio e dunque come in Santa Maria del Popolo, dove ha occasione di guardare la pittura del maestro. Io credo che Artemisia sia una dei più veri Caravaggeschi della storia dell'arte, forse anche più di suo padre. La sua tensione emotiva, la forza della sua pittura è proprio veramente la prova di come Artemisia avesse capito Caravaggio nella sua più intima essenza e non solo come così personaggio degno di rilievo o per le sue vedute delle osterie o come facevano i bamboccianti, ma proprio anche per i suoi soggetti più intensi, più tragici, più forti. La storia di Artemisia è presto raccontata, è molto tragica e molto significativa e si riassume paradossalmente in questo dipinto Susanna Ivecchioni che lei però ha realizzato prima di subire la violenza che le segnerà il resto della propria esistenza. Un dipinto, quello della Susanna Ivecchioni, che in realtà va su un soggetto molto amato dalla pittura del 5-600, anche perché è un soggetto religioso che concede all'artista di dipingere una bellissima donna nuda. Quindi sposa un po' la seduzione, il fascino del nudo femminile, con un soggetto biblico e quindi evita lo scandalo, anzi è un quadro moralmente ineccepibile. L'episodio terribile, quello di Susanna Ivecchioni, viene rappresentato da Artemisia nel suo senso più violento e aggressivo. Vedete che se normalmente gli uomini pittori tendono a dipingere Susanna bellissima, spesso molto provocatoria, quasi a lasciarci intuire una sua corresponsabilità nell'episodio e mette magari due anziani che la spiano un po' a distanza, incantati dalla sua nudità. Qui invece abbiamo un'immagine di violenza vera, di violenza fisica, di prevaricazione e già percepiamo, visto che Artemisia non ha ancora vissuto il suo stupro, già percepiamo una tensione che lei doveva respirare a casa in generale, una situazione di forte violenza dal punto di vista proprio dell'ambiente in cui lei viveva. Suo padre, per proteggerla, la affida ad Agostino Tassi, che era il suo quadratorista, cioè colui che dipingeva le scenografie, le quadrature delle opere di grande scala delle dimensioni decorative di Gentileschi. Tassi, pittore assolutamente mediocre, collabora con Artemisia all'aiuta a bottega finché appunto non abusa di lei, promettendole poi di sposarla. Lei cadrà un po' in questa rete di promesse, di ricatti, finché non si scopre che il Tassi è già sposato ed ha già una famiglia altrove. Da questo scatta la volontà di denuncia. Tassi viene denunciato al Tribunale del Tempo e Artemisia ha sottoposto a un processo crudelissimo in cui la si accusa di menzogna, di mentire e la si arriva a torturare, spaccandole le dita delle mani, per farle dire la verità, quale verità poi non è dato sapere. Gli atti del processo esistono, non sono totalmente stati pubblicati, sono agghiaccianti e ancora più agghiacciante è la pena che viene data ad Agostino Tassi perché lui sceglierà cinque anni di esilio o di lavori forzati e in quei cinque anni in cui lui teoricamente avrebbe dovuto assolutamente non tornare più nel mondo romano e non avere più delle incariche ufficiali, il Tassi dipingerà per il Papa. Quindi in realtà direi una pena inesistente anche se ufficialmente data a questo personaggio. Chiaramente la pittura di Artemisia non può che essere una pittura molto veemente, adesso torniamo sulla Cleopatra, molto violenta e aggressiva nei modi, non solo per la violenza che lei ricevette, ma in generale per questo senso, per questo mondo di cui lei era partecipe. Lei poi verrà data in sposa, troverà un marito nonostante la sua condizione estremamente compromessa, un fiorentino Pietro Antonio Stiattesi da cui avrà numerosi figli e tutti peraltro tranne una morti in giovanissima età. Nel 1630 andrà a Napoli, nel 37 raggiungerà suo padre in Inghilterra, pittore di corte in un momento difficilissimo della monarchia inglese, perché è quando poi cade l'unico periodo in cui la monarchia inglese entra in crisi, il nostro Gentileschi è pittore di corte, quindi è anche un po' sfortunato da questo punto di vista, e poi si trasferirà lei a Napoli fino al 41, quando nel 52 poi morirà. Quindi resterà a Napoli dal 41 fino al 52. Dunque, una vita intensa, una vita fatta esclusivamente di passione e amore per l'arte, una vita di frequentazione di personaggi importanti, perché Artemisia conobbe il nipote di Michelangelo, con cui buonarroti, con cui ebbe ottimi rapporti, conobbe Galileo Galilei, ebbe una serie di contatti notevolissimi, soprattutto a Firenze, e i suoi quadri sono straordinari. Per parlare proprio della sua pittura, ovviamente la sua pittura discende in parte da quella paterna. Questa è una Cleopatra di Orazio Gentileschi e questa è una Danae di Artemisia. Vedete che il nudo è praticamente il medesimo e secondo alcuni è lei, peraltro, che ha posato nuda per il padre, anche qui aggiungendo scandalo allo scandalo, dicerie alle dicerie. Ecco, in questa versione di Danae, noi osserviamo come Artemisia prenda l'esempio paterno e lo renda più complesso, più composito. Questa è una pittura su rame, molto interessante. Il fatto che lei usasse cliché, canoni della pittura paterna è dovuta di nuovo al fatto che lei non poteva studiare il nudo, davvero, e quindi chiaramente usava i quadri di suo padre per rappresentare le figure che poi adattava nei propri dipinti. I suoi capolavori sono la serie sicuramente delle Giuditte, un soggetto molto caro a queste pittrici dell'epoca barocca, perché la Giuditta rappresenta un po' una femminilità aggressiva, una femminilità forte. E le Giuditte di Artemisia non sono Giuditte che aspettano dal cielo la vocazione per uccidere il nemico, sono Giuditte che non perdonano, che in qualche modo hanno una lucidità, una spietatezza incredibile, come nel caso di questa meravigliosa parola degli Uffizi che poi ha fatto in due versioni, in cui proprio la lama fonda nella testa di Oloferne che si dice avere le sembianze di Agostino Tassi e questo spiegherebbe un po' anche la rabbia di questo gesto della decallazione. Ma guardate anche questi dipinti con questa facilità, a parte il fatto di come la Gentileschi ritraga le armi, le ritrae con una perfezione come chi ha dimestichezza con questi oggetti, ma soprattutto come maneggiano le armi le sue figure. Le tengono come se fossero delle borsette da passeggio, degli oggetti così di piacevolezza, hanno una dimestichezza anche con la morte straordinaria e la pittura di Artemisia ha una potenza anche nella tavolozza, questi gialli oro, questi colori intensi, notevolissima. La sua pittura in qualche modo è lei, c'è Artemisia in questo tipo di linguaggio, in questo mondo e nel suo autoritratto lei si veste nei panni della sua arte. Questo dipinto si chiama Allegoria della pittura, non autoritratto e questo ve la dice lunga su come Artemisia sentisse il proprio ruolo nell'arte. Notate anche una cosa, tutti gli autoritratti che abbiamo visto finora erano accollati, composti, morigerati, con abiti non scollati. Artemisia non ha niente da perdere e quindi osa un decoltè straordinario con quel ciondolo che balla nel vuoto sul seno, con questa visione dal basso, è spregiudicata, è libera. Leggete le lettere di Artemisia, quando scrive i suoi committenti gli parla da pari a pari, non ha bisogno di qualcuno che parli per lei, non ha bisogno di intermediari. È stata una donna di una forza, probabilmente non avendo nulla da perdere, ha saputo tirar fuori la rabbia e la potenza espressiva che era in lei. E poi ci sono altre figure che mi piaceva citarvi in questa carrellata sulla pittura barocca, definiamola così, che è un termine un po' generico, comunque diciamo della fine Cinquecento, inizio Seicento. Una di queste figure è della seconda metà del Seicento, si chiama, scusatemi, della seconda metà del Cinquecento, si chiama Fede Galizia, visse proprio a cavallo fra i due secoli, era figlia di Nunzio Galizia che era un miniaturista e, scusatemi, eccoci qua, ed è un'artista straordinaria che noi ricordiamo per le nature morte, ma in realtà ha fatto anche altro. Questo è uno dei suoi primi lavori, il ritratto di Paolo Morigia, l'ha dipinto quando aveva 18 anni, giovanissimo, Paolo Morigia, grande storico milanese e che ci dà anche l'idea un po' del tipo di opera di Fede Galizia. Poi nutissima per queste nature morte che lasciarono il segno decisamente nella scena artistica del tempo, perché si inserirono in un filone molto percorso anche dagli uomini, ad esempio da Peterzano, con delle, diciamo, specifiche di naturalismo che riecheggiano comunque Caravaggio, questa immediatezza, anche in quel mondo di Procaccini, di questi artisti del 600 Lombardo, dove noi sentiamo proprio la raffinatezza dello sguardo sulla buccia, sulla foglia, composizioni che spesso si ripetono in canoni, in cliché, abbastanza precostituiti, lei dipinse molti e fu una delle grandi maestre della natura morta, che è un genere molto escluso nella scena femminile. Anche qui bisogna un attimo sfatare il luogo comune per cui ci sono delle, molte artiste che lavorano con la natura morta, perché la natura morta è una cosa femminile. Non è questo, non è che le donne allora devono dipingere gattini e fiori. La natura morta in questo caso è stata dipinta da Fede Galizia perché il mondo, l'inizio 600, ama molto il soggetto della natura morta e noi troviamo tantissimi naturesti morti del tempo, fino a 700, un genere molto apprezzato che tende alla vanita, insomma a contenuti simbolici di altro tipo e Fede Galizia ne è una delle grandi rappresentanti. Ora è vero che per una donna dipingere una natura morta è certamente più semplice che dipingere soggetti altri, soggetti religiosi. Ho volutamente saltato e adesso torno indietro l'opera di Elisabetta Sirani perché proprio in questo caso Elisabetta Sirani era un'artista che invece si avventurava in maniera molto coraggiosa su tematiche sacre, cosa che, diciamo alla grande eccezione della Gentileschi, per una donna era decisamente molto, molto rischioso quantomeno. Elisabetta Sirani, pitrice bolognese, nata nel 1938 e morta a 27 anni in circostanze anche abbastanza misteriose che hanno fatto scatenare qualsiasi tipo di ipotesi, tra cui anche l'avvelenamento, era l'artista prediletta da Guidoreni che gli era sempre stato molto vicino. Lei era consideratissima quando era vivente e in questi 27 anni di vita lei raggiunse uno stile di una delicatezza, di una dolcezza straordinaria nota soprattutto per questo tipo di dipinti che lei realizzava in maniera molto rapida. Tanto è vero che c'è questa leggenda legata ad Elisabetta Sirani per cui la gente dubitava che fosse lei a dipingere le opere e quindi la Sirani si mise in piazza con il suo cavalletto e fece una dimostrazione pubblica del fatto di saper dipingere veramente in questo modo con quella vastità, velocità, con quella rapidità e di non avere qualcuno che dipingesse per lei di nascosto. Anche la grande Elisabetta Sirani dotata di un talento pittorico straordinario in realtà cade sulle composizioni più complesse perché per una donna che non ha la struttura dal punto di vista della conoscenza tecnica perché non può fare il corso scolastico di bottega che faceva un pittore uomo, chiaramente fa molta più fatica sulla palla d'altare complessa con tante figure e da cui la scelta saggia per molte artiste di andare sulla natura morta che invece non presuppone il contatto con una committenza, è semplicemente un elemento io e la natura morta, posso dipingere anche in salotto, non ho bisogno di chissà quali tipo di conoscenze prospettiche, di composizione che presuppongono un corso di studi che le donne non potevano percorrere. Quindi mettete insieme questi elementi e capite perché le donne nella natura morta sono molto numerose, anche disparate. Vi ho portato alcuni rapidissimi esempi. Giovanna Garzoni nella metà del Seicento è nata da Scolipiceno, notissima per queste sue pergamene su cui dipingeva natura e morte che sono in bilico fra la tavola botanica e il dipinto. Le condiva sempre con insetti, piccole creature, presenze e allo stesso modo aveva un'esattezza di riproduzione dei vegetali, della frutta, i fiori, le foglie che la facevano diventare una delle più stimate pittrici di questo genere del proprio tempo. Le sue carte, le sue pergamene erano richieste dalle corti di tutta Europa. Allo stesso modo ci sono tantissime pittrici di natura e morte, come del resto pittori di natura e morte nel nord Europa. Prima Margherita Caffi, scusatemi, eccola qua, che è una invece pittrice italiana di cui si sa molto poco. Lei era notissima per questi ovali con queste ghirlande fiorite e come lei molti altri. Vi dicevo nel nord Europa, Clara Peters ad esempio nel 1622 all'incirca dipingeva in questo modo negli anni venti del seicento queste nature morte molto ricercate, molto in linea con lo stile, con il gusto nordico del tempo, con il bicchiere trasparente, con il riflesso, il senso di vanitas comunque di precarietà della vita, ma anche il racconto del cibo, della quotidianità. Quindi di questo tipo di natura e morte ne troviamo tantissime anche nel mondo maschile e chiaramente ce ne sono numerose anche tra le artiste donne. Ma restando nel mondo della nord Europa, diciamo delle fiandre, mi piaceva chiudere la nostra carrellata sul seicento con un'artista che è stata un'artista significativa perché ci fa capire anche la differenza tra il mondo fiammingo e quello italiano. Sicuramente nelle fiandre le donne hanno goduto di maggior libertà, anche dal punto di vista della posizione professionale che potevano adottare. È Judith Leister, quest'artista che peraltro Leister non era il suo cognome, era il nome della locanda che gestiva suo padre e lei lo adotta, stella del nord, lo adotta come nome d'arte, si firma in questo modo, chiama così la sua bottega e si specializza in questi quadri di interno con musicisti, anche qua assolutamente tipici della pittura del tempo. Lei lavora ad Harlem e poi ad Amsterdam, è molto vicina a un grande maestro del tempo che è Franz Hals, le cui tracce si sentono nella pittura di quest'artista, guardate per esempio in questo bellissimo volto di ragazzina questi colpi di pennello molto ampi, molto larghi che sono un po' tipici della pittura di Hals e lei è anche moglie di un pittore molenare ma in realtà fra lei e il marito c'è, diciamo, la loro professionalità non dialoga. Lei ha una bottega, il marito ne ha un'altra. Lavorano sugli stessi generi perché questo è il genere che va per la maggiore nell'Olanda del tempo ma con personalità distinte e soprattutto con identità professionali distinte. I due lavorano insieme ma divisi, separati e la carattere di Judith Leicester è riconosciuto come entità autonoma. Dunque c'è maggior spazio per una donna pittrice nel mondo del nord, ci sono più numerosi casi di pittrici che avevano botteghe fiorenti libere di esprimersi con la propria identità, anche nei secoli successivi avremo dei casi eclatanti, ad esempio Richard Riuish che era la figlia di Federico Riuish, quello a cui Leopardi dedica uno dei suoi, delle sue componimenti, Federico Riuish e le sue mummie e Richard Riuish, quindi figlio di un studioso, di un anatomista, di uno studioso, di uno scienziato, è attentissima alla verità specifica dei fiori, dei petali, degli oggetti, compone composizioni meravigliose ma ridondanti di elementi, di descrittive in una maniera straordinaria ed è notissima in tutto il mondo per queste sue composizioni floreali che sono devo dire anche molto ben risolte, alcune con una veramente quantità di oggetti strabilianti. E infine mi piaceva proprio per raccontarvi questo mondo diverso da quello italiano, nella seconda metà del Seicento vive e lavora anche questo strano personaggio che si chiama Maria Sibilla Merian, donna di Norimberga che figlie, moglie d'arte, perché nella sua famiglia erano un po' tutti artisti, lei compie dei viaggi, tra cui un eclatante in Suriname per l'Olanda, visto che il Suriname era una colonia olandese, e lo fa da apitrice scienziata perché a lei vengono affidati i disegni della flora e della fauna locale e lei li realizza con questa immaginazione, con questa fantasia, con questo senso anche della composizione, restando in bilico fra appunto la tavola scientifica e invece il dipinto immaginifico, crea questa enorme catalogazione di fauna e di flora di questi mondi lontani che le daranno una grande celebrità, quindi addirittura una donna scienziata in viaggio con un'ambasciata, diciamo con un viaggio ufficiale di uno Stato dall'altra parte del mondo. Comaria Sibilla Merian ci ricorda quanto fosse potenzialmente insomma anche importante il ruolo di queste figure anche nella cultura e nella scienza del tempo e questi nomi che vi ho raccontato in questa oretta di conferenza sono solo alcuni dei tanti, tantissimi nomi che potremmo fare di pittrici vissute tra 5 e 600 e oggi forse un po' dimenticate. Tenete presente una cosa, è stato fatto uno studio molto interessante per cui molti dipinti che un tempo erano considerati anonimi sono invece oggi considerati fatti da donne. Il caso di anonimato e di perdita della firma di un dipinto è più probabile nel caso di pittrici che hanno magari dovuto avere in qualche modo dovuto lottare per affermarsi o che magari poi hanno rinunciato, che sono andate, state protette o aiutate da grandi artisti e poi sono morte molto giovani o hanno abbandonato per ritornare nei ranghi del proprio ruolo di madre, di moglie e dunque carriere interrotte, storie interrotte fino a tempi molto recenti. Quando vedete un quadro anonimo di un maestro nei musei fatevi sempre un po' così questa domanda se per caso non siamo una maestra o un'anonima perché nel mondo dell'arte le donne sono state tantissime, hanno lottato per affermarsi, non ci sono sempre riuscite e molto spesso pur essendosi affermate sono state dimenticate dopo. Quindi se ha un senso studiare l'arte al femminile ce l'ha sicuramente su questo momento storico cioè sul momento che arriva fino al Novecento, epoca in cui lentamente ma progressivamente insomma grazie al cielo la situazione sembra essere man mano cambiata e migliorata sebbene non risolta, ecco questo no, non mi sento di dire che sia stata risolta nemmeno nell'attualità. Bene questo era l'ultimo dei nostri incontri di questo autunno e certamente riprenderemo con il 2021 sperando che il 2021 ci riservi un po' di positività e il privilegio di poterli tenere dal vivo ma comunque avete visto che grazie anche all'impegno di Villa Greppi siamo riusciti a portare avanti il nostro ciclo di conferenze senza fermarci neanche di fronte appunto alla non possibilità di vedersi di persona. Grazie, arrivederci e visto che ormai siamo insomma direi nel periodo giusto, buone feste.